Ragazzi, siamo in una nuova dimensione, una dimensione speciale, una dimensione che neanche voi potete immaginare. È sicuramente una fantastica dimensione e è la famosa scala, una scala che voi non avete mai visto. E io ora scenderò questa scala facendo attenzione a non cadere. È una scala pazzesca, è una scala non grande, ma è una scala che va vissuta piano piano. È una scala, signori, la scala che conduce dove c'è la mia porta, una scala che conduce alla mia casa. E noi scendiamo questa scala in maniera pazzesca, ma molto, molto piano. Scendiamo la scala. Eh sì. Raga, mi stavo finendo di preparare. Mi avete già messo l'ok di YouTube. Mi sto finendo di preparare. Ragazzi, oggi sono a casa, è giovedì. I miei e mia nonna sono via, perché purtroppo è morta una delle sorelle di mia nonna ancora giorni fa, qualche giorno fa, e sono andate al funerale e io sono a casa da solo. Mi dispiace dire tutto questo, ragazzi, ma è così. Comunque, benvenuti a un altro appuntamento del mio programma di YouTube, ovviamente. I racconti di Ivan. Come state? Fuori il tempo è un po' capriccioso, è nuvoloso, ma il rischio a pioggia è relativamente basso, ok? Il clima, come sapete, come immaginate, è impazzito e noi non possiamo farci niente, raga, ok? Quindi prepariamoci a una giornata, il resto della giornata, che sarà abbastanza bruttina, almeno fino a questa sera, raga, ok? Quindi non sarà assolutamente un bel fine di giovedì. Allora, ragazzi, questo programma, vi dico, vi dico la verità, poco fa, poco fa, avevo incominciato a farlo, però, siccome la memoria nel tablet non c'era più memoria, diciamo, per registrare, ho dovuto cancellare qualche registrazione vecchia, avete capito? Quindi adesso, adesso, sto rifacendo ancora il pezzo che ho fatto poco fa, prima, ok ragazzi? Vi dico subito, vi dico subito, se dovesse bloccarsi il video, se dovesse bloccarsi il video, finiamo così il video, finiamo così il programma, ok? Spero che non si blocchi più il video, ma se dovesse bloccarsi il video, capite perché. Allora, veniamo un pochino a punto, com'è il tempo? Vai! Ve lo rileggo, ovviamente, ve lo rileggo, perché prima è successo quello che è successo, raga, ok? Allora, vi leggo il tempo previsto oggi per oggi, ok? Sulla pianura, nuvolosità diminuzione, fino a cielo particolarmente nuvoloso ovunque di sera, quando localmente si formeranno delle nebbie. Nel pomeriggio, modeste piogge locali, più probabilmente in prossimità di rilievi, sui monti molto nuvoloso o coperto, e modeste precipitazioni che nel pomeriggio saranno diffuse a barre discontinue, mentre di sera brevi, locali barabrevi, scusate. Con quota neve a 1500-1800 metri. Le temperature, rispetto a mercoledì, nel pomeriggio avranno andamento irregolare. Di sera saranno in caldo anche sensibile questa sera, con minime nelle ultime ore. Questo, ovviamente, è il tempo previsto per, appunto, oggi. Proprio per oggi. Ok ragazzi, quindi prepariamoci ad avere un tempo molto strano. Cosa c'è ragazzi? Solita storia. Ho qualcosa che non va dai. Ho qualcosa fuori posto. Che mi guardate così. Non mi sembra di avere niente fuori posto. Ho qualcosa fuori posto, secondo voi? A parte i capelli? Nuovo look? Li ho tagliati? Non mi pare? Cos'è? Allora, l'argomento di oggi è Amesso e non concesso che ce ne sia uno Nessuno! Ah ragazzi, nessun argomento oggi. Ma, mamma mia, nessun argomento. Vabbè ragazzi, non ci... Chi è? Avete sentito qualcosa? Non fatemi questi scherzi, raga, per favore. Avete sentito... Cosa? Eh, per favore, basta scherzi. Mi hanno... Come scherzi? Eh, ragazzi, dai, per favore, basta. Pi... Oh, 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 piano, piano. Ma... Ma... È un microfono, ragazzi! È un microfono vero! Comunque, ragazzi, ricordo. È un microfono vero, raga. Se si dovesse bloccare il video, metteremo nella storia il video così com'è, va bene? Se si blocca il video, io spero che non si blocchi. Io intanto vi saluto, vi saluto già adesso, sperando che il video, appunto, non si blocchi, raga. Allora, alziamo un po' il volume per aumentare la vita. No, scherzi. Un po' il volume e la vita. Sotto? Un po' più, così. Così, va bene? Non è che magari... Mi sentite? Magari, per colpa del volume, il video finisce e non faccio in tempo ad andare avanti. Io canterò per voi, ma meglio che non canto perché sono molto stonato. Quindi se ho dovuto avere questo microfono, questa cassa e questo tipo di mixer, diciamo, che qui sopra ben venga. Ciao ragazzi, comunque, vi saluto e ci sentiamo la prossima volta, forse con la parte microfono-microfonata. Ok ragazzi? E niente, spero che non si blocchi il video. Se si blocca il video, ragazzi, ovviamente, se si blocca il video, ce ne faremo una ragione. Ce ne faremo una ragione, ok? Ok raga, spero di no. Mettiamo via il microfono. Chiudiamo la cassa. Appoggiamo il microfono. Se si blocca il video, amen. Ma ora è arrivato il momento del lancio della monetina. Famosa monetina. Due volte? O tre? Due o tre volte? Eh, l'ho presa. Avevo gli occhi un po' aperti. Un'altra volta? L'ho presa? Allora devo chiudere gli occhi, raga. Mi metto bene qua per voi. Sennò, se non chiudo gli occhi, non vale, non vale. Eh vabbè, faccio così, guardate. Così. Voglio anche una cosa. Voglio salutare Manuel, che è il mio amico molto molto giovane, che va ancora a scuola. Quindi un saluto a Manuel. Fai il bravo, Manuel. So che sei molto bravo, anche se non ti conosco di persona. Poi saluto anche Efox e saluto un po' di persone, raga. Saluto casomai la mia amica Rebecca di Brescia. Saluto anche Andrea, sempre di Brescia. se dovesse vedere questo video. Quindi saluto i miei fans, diciamo così, di Instagram. Quindi saluto, saluto tutti, ok raga? Quindi vi ho fatto questo saluto, ok raga? Quindi saluto, perché se no, se non vi saluto, dopo succede il patatrack. Quindi meglio che uso ad opero questo piccolo spazietto per salutare, ovviamente, ovviamente voi, ok? Ragazzi, è arrivato il momento. Siamo quasi sera. Forse è la volta buona. Forse no. Ma è arrivato il momento, il fattidico momento, della diretta Instagram, mentre registro per YouTube. Instagram, tutto quello che volete. E speriamo che non si blocchi il video proprio adesso, ragazzi. Non dovrebbe bloccarsi, perché ho cancellato un po' di cose. Però se si blocca il video, non spaventatevi. Se si blocca il video, ci vedremo la settimana prossima o nelle prossime settimane. Intanto appoggiamo il cellulare qua. E avviamo la diretta. 1, 2, 3, fatti cavallo re. Quante cavallo re? Non fatti cavallo re. Verifica della connessione. Siamo in diretta. Ho poca voce perché ho parlato abbastanza oggi. Quindi, siamo in diretta. Ciao ragazzi. Sono in diretta su Instagram. Sono in diretta sul tablet perché sto registrando il mio programma di YouTube. Speriamo solo che non salta la diretta, ragazzi. Speriamo di no. Perché il tablet aveva parecchie cose sul tablet e la memoria è parecchio consumata. Quindi la memoria del tablet magari non riesce a registrare per più di un tot tempo. Allora, siamo arrivati alla diretta Instagram. In questi penso circa 3 minuti. Quindi penso 3 minuti, esatto. Quindi 3 minuti circa. E in questi 3 minuti, fino a che qua il tablet siamo 10, ok? Un po' prima del dodicesimo minuto del mio programma. Se non si blocca il video, se non si blocca il video, fino al dodicesimo minuto, lascio la diretta Instagram. Vediamo se in questi 2 minuti, circa 2 minuti che mi rimangono, si collega qualcuno. È un collegamento molto veloce. È un collegamento veloce perché sto facendo un programma di YouTube. Quindi, se qualcuno dovesse collegarsi, sta solo un minuto collegato e basta perché è un piccolo spazio. Avete capito, raga? È un piccolo spazio. Non posso stare tanto, ok? È un piccolo spazio perché sto registrando su YouTube. Quindi è un piccolo spazio questo. È la mia rubrica che si chiama Il Momento Instagram. E vedo che c'è qualcuno in diretta. Saluto intanto due persone in diretta, ragazzi, per YouTube che sto registrando. Su Instagram sono in diretta. C'è qualcuno in diretta, davvero, raga? Ve lo faccio vedere in questi minuti, in questo minuto e mezzo che sto. Tanto saluto. Antonio. Ciao Antonio. Come stai? Ciao King Rasser, se ci sei ancora. Ok, ragazzi? Vi faccio vedere che c'è qualcuno in diretta. Perché sembra strano. Ma c'è. Realmente, raga. Guardate. Leggete. Diretta. Due persone in diretta. Ok? YouTube e in diretta Instagram. Quindi, questa volta qualcuno in diretta c'è stato. E ciao a tutti. Ora, se ne sono andati via dalla diretta, ma io anche io tra poco finirò. Perché forse io, ragazzi, non l'ho spiegato a nessuno, ma questa diretta Instagram è solo di tre minuti circa. Perché sto registrando su YouTube. YouTube, comunque, grazie che si sono collegati in diretta davvero due o tre persone, che mi stanno seguendo. Grazie di cuore. Ancora pochi secondi e toglierò la diretta. Vediamo se si collega qualcun altro. In questi 30 secondi, circa 40 secondi, e poi stacco. Ragazzi, se dovesse capitare una volta, se capitasse che farò ancora, faccia a faccia con qualcuno mentre sono in diretta qua. Potrei fare faccia a faccia su Instagram se dovesse capitare. Però, ora vedremo. L'importante è che si è collegato qualcuno, per ora. Stiamo ancora a pochi secondi. Dieci secondi, circa, poi basta. E mettiamo fine le nostre sofferenze. Qualche secondo ancora, non si collega più nessuno, penso. I dieci secondi mi sa che sono passati. E noi terminiamo la diretta e la mettiamo anche nella storia. Condividi. Diretta andata. Diretta andata, raga. Ok? Avete visto? Questa volta sono riuscito, stranamente, qualcuno stranamente è venuto in diretta. Questa volta sì. Non capita tutti i giorni, ok? Assolutamente. Ragazzi, era un piccolissimo momento di canzone. Era un pochissimo, piccolissimo momento. Dedicato alla musica. Siamo quasi alla fine. Spero solo che il programma rimane, perché io forse prima ho bloccato il video. Quindi bloccando il video, la registrazione non è più riandata. Ma forse non c'entra niente, non lo so se c'entra. Ma per sicurezza, meglio che non blocco il video, perché siamo alla fine ormai, se non si blocca da solo il video. Ragazzi, cosa ho trovato qui sotto la ciabatta? Era proprio sotto la ciabatta. Sotto la ciabatta ho trovato questi. Questa cosa qui. Non so cosa sia. Ve lo leggo. Una cosa nuova, raga. E penso che sia questa la conclusione di questo bel appuntamento. E' arrivato il momento della rubrica che si chiama lettera anonima ed è il momento password, ovvero un nome di qualcuno, di qualcosa, password, un nome di qualcuno, di qualcosa, che solo la persona, solo ovviamente quello che scrive ovviamente, solo lui, solo lui sa che cosa ha scritto. Quindi password, anonima, ok? Ed è una specie di lettera che mi è arrivata. Non so, mi è arrivata questa lettera qua. La lettera si chiama anonima. È una nuova rubrica, raga. Non so, mi è arrivata questa. E vediamo cosa c'è scritto. Ve lo leggo per finire. Se non si blocca il video, vado. Portami via lontano. Lontano in modo che nessuna possa trovarmi. Che mai nessuno sappia chi sono. Non abbandonerò per sempre la mia città. Ma solo per un periodo. Fino a quando tutti capiranno che sono andato via da qui. Urlate di gioia. Fate volare il cane, il gatto, scusate. Anzi, meglio di no, meglio di no. E magari donate 10 euro a chi ne ha bisogno, raga. Senza che io vi veda e dica troppi 10 euro. Insomma, siate liberi di fare le cose con più libertà. Sempre nei limiti, ovviamente. Senza fare del male alla gente. Fatelo in fretta. Perché quando tornerò tutto finirà. Non sono cattivo. Non sono cattivo. Non sono cattivo, ma solo un po' ad un piscatole. Per concludere, questa lettera, quindi una lettera corta, questa scrittura, questa lettera, questa scrittura, vi dico che la libertà è fondamentale. E se trovate gente stupidamente esigente, evitatela. Farà bene a voi e al mondo, Marcio, che ci circonda. Grazie a tutti, by una persona di cui non sapete il nome, ma sapete solo che si chiama Password. Questa, ragazzi, è una lettera anonima, ok? Una lettera anonima dedicata a voi, ok? È una lettera anonima, non so chi l'ha scritta, ok? Non so chi l'abbia scritta. So che è anonima, non so chi l'ha scritta. E siamo arrivati alla fine di questo programma e io vi ringrazio, vi ringrazio davvero tanto. Grazie a chi forse guarderà questo mio programma, grazie a chi si è collegato prima sul mio Insta. E ragazzi, io vi lascio. Come sempre, il programma dura, come sapete, meno di 20 minuti, 15-16 minuti di solito. Siamo perfetto, sono perfetto con i tempi, ovviamente. Questo programma qua l'ho preparato stanotte, ieri sera e questa mattina e prima. Ultimi ritocchi. E io, con uno schiafo a destra, uno schiafo a sinistra, uno schiafo a destra e anche a sinistra, vi lascio con questo, con questo, aspettate, con questo. Vi lascio, ragazzi, vi lascio con questo, con questo, con questo. Scusate, c'è un po' di intercoramento. Con questo, con questo, ok, perfetto, perfetto un corno. Con questo, togliamo, 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 eccoci qua, pronti. Con questo, con questo, con questo, con questo. Ciao raga, tutto staccato qua, non va più niente. Ciao raga, ciao, 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 ciao.